Manifestazioni, convegni, mostre e concerti per celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Dal mese di agosto e fino alla fine del 2011, la Segreteria Scientifica del Comitato per l'Anniversario, coordinata dal professor Giampaolo D'Andrea, sta mettendo a punto una serie di iniziative finalizzate alla rievocazione storica dei passaggi che portarono l'Italia da disomogenea e frammentata a Nazione Unita. Si comincerà con ricordare i moti del 1860. Ad agosto quelli organizzati dai comuni di Corleto, Montemurro, Moliterno e soprattutto dal comune di Potenza per ricordare gli eventi del 16-18 agosto 1860 e il passaggio dal governo prodittatoriale Mignogna-Albini al governatorato con poteri illimitati, come fu definito, guidato da Giacinto Albini su indicazione di Giuseppe Garibaldi. Si proseguirà ad ottobre con iniziative per ricordare i plebisciti di annessione, a marzo 2011 con i convegni a cura della Deputazione di Storia Patria e dell'Università della Basilicata e ancora una serie di mostre e concerti di musica risorgimentale per tutto il corso dell'anno. Per il presidente onorario del Comitato per le Celebrazioni, Emilio Colombo, intervenuto all'iniziativa, insieme a Vincenzo Folino e Vito De Filippo, rispettivamente presidente e vicepresidente dello stesso organo, occorre chiarire i passaggi storici e culturali che portarono all'unità d'Italia perché nell'animo di ciascun italiano possa rafforzarsi quel senso di identità che aiuti il paese a difendersi da attacchi di incultura. Necessario per il presidente della Giunta regionale De Filippo sottolineare l'importanza di un'Italia unita in un particolare momento storico e politico come quello che stiamo vivendo. Tra federalismo, manovre, disgregazioni anche politiche, territoriale, sociale e culturale così rilevanti pretendono necessariamente una grande discussione su questo lungo percorso, su questo lungo itinerario unitario che ha 150 anni di vita e che non ha raggiunto totalmente gli obiettivi e io penso che è una regione virtuosa e pienamente dentro a questo flusso della storia come la Basilicata può contribuire con elementi importanti e anche con una riflessione approfondita su questa materia.